Un saluto da Dr. Palmas, dentista sardo in Moldavia. Oggi ti spiego quanto risparmi dal dentista in Moldavia, senza dirti cazzate, senza dirti bugie, dicendoti solo la verità. La verità è la verità. Quello che ho fatto è stato collezionare tutti i preventivi, parte a dire il vero non proprio tutti perché ne ho migliaia di preventivi che mi mandano ogni giorno. Ho preso dei preventivi che sono del tuo paese. Ho fatto esattamente lo stesso preventivo con le stesse cose presenti in quel preventivo che mi è stato inviato con i prezzi del mio policlinico. A proposito, se vuoi puoi verificare tu stesso quelli che sono i prezzi applicati al mio policlinico cliccando sul link qua sotto. Andiamo avanti. Molti preventivi che io ricevo sono dei preventivi che hanno dei prezzi veramente pazzeschi. Pazzeschi perché hanno veramente... Io non parlo chiaramente del tuo paese Italia, se sei dell'Italia, ok? Non sono preventivi arrivati dall'Italia. Non sono preventivi arrivati dall'Italia. Te lo ripeterò durante tutto il video, ok? Quello che vedrai non sono preventivi che mi sono arrivati dall'Italia. Sono preventivi che mi arrivano dall'Europa. Ok? Dall'Europa. Sono preventivi che io ho preso i miei prezzi, il listino prezzi, ho confrontato e inviato al paziente. Quello che succede è quello che ti faccio vedere adesso. Ti faccio vedere i preventivi che ho ricevuto e quanto hanno, diciamo, ricevuto di preventivo dal mio policlinico. Se vuoi ti posso anche far vedere sullo schermo qua a monitor. Pulisco giusto un po' la telecamera. Ecco qua. Andiamo a pulire e ti faccio vedere. Questo è il preventivo ricevuto. Ho dovuto oscurare per ovvie ragioni i dati sensibili del preventivo. Preventivo totale 14.000 euro 230. Con lo sconto che solamente in alcuni stati europei esiste questa cultura dello sconto che a mio parere è una grande presa in giro perché se chiedi lo sconto e te lo fanno ti stanno prendendo in giro perché se non lo chiedevi significa che ti stavano truffando. Uno deve pagare quello che è giusto ed è giusto far pagare ai pazienti quello che i pazienti mettono in bocca. Se ti mettono lo sconto, lo sconto è solamente un modo di fare commerciale che esiste solo in alcuni paesi europei. È un qualcosa che per esempio se vai in Germania chiedi lo sconto ti guardano strano, perplesso. Se tu vai a comprare la BMW il prezzo è quello. Cambia il modello, cambia il prezzo, significa che c'è qualcosa di diverso in quello che stai acquistando. Il nostro è un policlinico che non fa gli sconti perché non crediamo nella psicologia dello sconto. Il prezzo è questo, se vuoi l'aggiunta paghi l'aggiunta, se vuoi di meno tolgo dal preventivo alcune cose. Questa è una cosa che ci capita veramente spesso, vengono in clinica e ci chiedono lo sconto. Ne abbiamo già i prezzi che sono tra l'80 al 90% in meno, non ha senso fare ulteriori sconti di prezzo mettendo delle cose non calcolate, nascoste nei preventivi. Da noi questo stesso preventivo eccolo qua 12.000 con lo sconto 3.371. Questo è il prezzo di esattamente queste cose che sono presenti qua. Le stesse cose riportate qua, il prezzo finale sono 3.371 contro 12.000. Fate attenzione che vi fa la barra sul prezzo e vi dice con lo sconto. Ok, vi stanno truffando, vi stanno truffando. Lo sconto è un qualcosa che psicologicamente attira, più vai giù nell'Europa e più vai nei paesi arabi e più il prezzo è un qualcosa che si può contrattare. Lo sconto è un qualcosa che viene dalla cultura araba. Tu vai in Arabia, il prezzo neanche c'è. Dipende, ci mettiamo d'accordo. È una cosa che a mio parere è veramente poco seria, specialmente nell'ambito sanitario. Fai qualcosa, questo è il listino prezzi, fammi vedere il listino prezzi. Io non voglio chiedere sconto. Voglio pagare quello che prendo. Se poi prendo di più, pago di più. Se voglio il doppio del numero degli impianti, pagherò il doppio del numero degli impianti rispetto a chi prende la metà. La cultura dello sconto è un'aberrazione della cultura araba. Ok, andiamo avanti. Vi faccio vedere un altro preventivo. Questo è epico questo preventivo perché è arrivato senza intestazione, senza data. Un classico preventivo dove non si vuole lasciare traccia. Ci sono due tipologie di preventivo. Un primo con una protesi mobile parziale provvisoria, fissa in metallo, otto impianti ostintegrati. L'altra invece è una protesi fissa avvitata su sei impianti. Abbiamo fatto entrambe le soluzioni. La prima 17.450 euro. Ok, ve lo sto inquadrando. Questa stessa soluzione da noi viene a costare 4.021 euro. Esattamente le stesse cose che sono in questa prima soluzione. Nella seconda soluzione, protesi fissa avvitata su sei impianti dentali in titanio. Ok, stessa protesi fissa con i provvisori avvitati premium, 3.389 euro contro 16.600 euro. Mi capita spesso che vengono pazienti e ci dicono, ma questo qua secondo me costo uguale in Italia, trova meno. È come quando vengono qua per esempio e vanno, che ne so, al fast food delle pizza e mi dicono, ah la pizza la trovo anche a meno. Sì, ma quella non è pizza. Ok, quella è una cosa scongelata, eccetera. E soprattutto i pazienti si fermano a leggere tutti solamente il totale. Nessuno va a guardare esattamente cosa ci hanno messo dentro. Ok, noi delle volte se facciamo per esempio esattamente la stessa cosa che ci mandano per esempio da un preventivo italiano, si vede esattamente quanto è la differenza di prezzo. Qua mi è uscita ora una cosa, quattordici secondi, quindici secondi, non so, mi sta uscendo qualcosa allo schermo, mi sposto fortunatamente, c'è un altro schermo di qua, mi posso mettere di qua. Vi dicevo, se non si va a guardare esattamente cosa si mette prima dentro al preventivo, ok, non si può paragonare il prezzo. Stiamo solamente, se non si guarda cosa c'è dentro alla pizza, andando a verificare prezzo di questa pizza col prezzo di questa pizza. La verità è che devi vedere che tipo di pizza stai prendendo. È prendere in paragone la stessa pizza. Noi abbiamo fatto lo stesso, la stessa cosa in questo esperimento. Ho preso esattamente le stesse cose dei preventivi calcolato con il nostro listino prezzi. 3.389 contro 16.600. Quando io dico che noi costiamo l'80-90% in meno, la gente non ci crede. Poi succede che vengono qua in Moldavia, vedono quanto sono bassi i nostri prezzi e vogliono fare la scorpacciata, vogliono fare la buffata, ok, mettimi impianti in più, ceramica in più, zirconia in più, fammi il piano digitale. Prezzo lì sale, perché stiamo mettendo dentro al preventivo delle altre cose, ok. Per anni mi chiedevano ma perché poi vengo qua da voi e costa di più. Cavolo, stai mettendo più cose quando vieni qua. È come scoprire che vieni qua, che c'è l'iPhone nuovo 10 a 200 euro, la gente dice ma ne voglio 3, ne voglio 4 e poi esco e mi dico ma ho speso di più. Certo, perché ti sei abbuffato. Ok, noi quello che stiamo facendo in questo esperimento, prendo un altro preventivo, per esempio, anche qua siamo andati a oscurare i dati. 14.050 euro, sconto, che non so cosa vuol dire questo sconto, perché? 450 euro, anche loro hanno la cultura araba dello sconto, 13.600 euro. Da noi stesse cose messe dentro al preventivo, le stesse che vedete qua, le abbiamo riportate qua, 3.499 euro. 3.400 euro, 3.500, anzi, contro 13.600. Ok, questo non è un paese, non è il vostro paese dove abitate, queste cose non mi stanno arrivando dall'Italia. Non sono preventivi che vengono dall'Italia, questi che vengono da un paese europeo. Andiamo a vedere un altro preventivo, un altro preventivo, anche qua oscurato, totale 5.600 euro, da noi 2.204 euro. Andiamo su un altro preventivo, questo 12.900 euro, stesse cose, 3.283 euro. 3.200 contro quasi 13.000 euro, 13.000, allora se io faccio 3.200 per 5, arrivo a 15, lì siamo a 13, quindi 3.200 per 4, più o meno siamo, 80% in meno siamo là. Ok, andiamo ancora avanti. Un altro preventivo, ah questa è una catena famosissima, anche loro fanno lo sconto, guarda oggi abbiamo le zucchine in sconto da 3.100, da 3.500 a 1.770, cioè se oggi me lo fai a 1.770 significa che prima mi stavate prendendo per il culo? Cioè questo è il discorso, cioè se ti fanno lo sconto significa o che ti stanno prendendo in giro, ok, che stanno togliendo qualità, oppure ti stavano prendendo in giro prima, cioè il discorso è sempre questo quello dello sconto. quando abbassano i prezzi, ok, quando per esempio nel tuo paese abbassano i prezzi, significa o che ti stanno fregando o che ti stavano fregando, ok, da lì non esci. Lo sconto è la stessa psicologia, 9.800 euro, sono partiti, guardate qua, da 12.000, effetto wow, te l'abbassa 10.000, ti faccio il doppio sconto, un triplo salto con avvitamento carpiato, 9.800 euro, 9.800 euro e noi l'abbiamo praticamente tagliato a 3.428. Loro partivano da 12.000, 11.990 e noi siamo partiti da 3.428, ok? 3.428. Doi pazienti vengono in Moldavia e fanno la buffata, fanno la buffata e dicono no ma voi costa quasi come in Italia, venite, la prima cosa che fate in Moldavia, vi mettiamo in mano il listino prezzi, poi prendete quello che volete. Questo è un altro preventivo, ok? Stessa catena questa, anche qua c'è lo sconto, però sono rimasti bassi, hanno fatto solo uno sconto, invece che il doppio avvitamento carpiato, 6.000 euro, 6.000 cucuzze e noi siamo arrivati a 2.800, 2.800 contro 6.000 cucuzze. Andiamo avanti, questo è un altro studio, 10.868, stesse cose, Toronto Bridge provvisoria, Toronto Bridge in Re, protesi immobile totale, tititata, stessa cosa qua, protesi immobile totale, denti definitivi avvitati, denti provvisori avvitati, abbiamo messo anche gli impianti premium, i migliori che ci sono, 3.568 contro quasi 11.000, ok? Quasi 11.000, ma non stiamo parlando del paese Italia, ok? Non sono preventivi che vengono dall'Italia questi. Andiamo a vedere un'altra catena, questa è famosissima, questa è famosa perché praticamente, grazie Gianfranco Multineddu, anche io ti voglio bene, metto anche un mi piace al commento, questo è un preventivo di una famosa clinica di colore blu, ok? Che si propone come un low cost, hanno circa, parecchie cliniche c'hanno in Italia, ok? C'hanno parecchie cliniche, questo è il preventivo, oggi vi spiego la trappola che usano queste cliniche, loro praticamente fanno alcuni trattamenti a prezzo basso, per esempio impianto 498 euro, poi ti separano il moncone che va messo sopra l'impianto e la capsula, quindi in realtà se vai a fare 500 più 682 che su altri 700, arrivi a circa 1200 euro, ok? Questo non è un low cost, loro pubblicizzano questo l'impianto, con questo dannetto lo fai finito, con questo prezzo e poi mettono tanti altri trattamenti minori, ok? Che passano inosservati ma poi sommati viene fuori un trattamento da 8300 euro. Quanto costerà da noi questo trattamento? Da 8300, 2163, ok? Esattamente le stesse cose, esattamente le stesse cose che sono di un low cost che si propone low cost, ok? Non credete, cioè il Dixon alla fine te lo metto sotto costo, ma massimo 10 pezzi, poi entri dentro al market e tenesci con 10 buste, ok? Però l'offerta del Dixon ha funzionato. Questo è un altro preventivo, questo è un altro preventivo che ci è arrivato dall'Italia, ok? Scusate ho detto Italia, non volevo dire Italia, non viene dall'Italia questo, viene dall'Europa, ok? 13790 euro, questi sono veramente preventivi bassi rispetto a certi che ci arrivano, perché in genere i pazienti che noi facciamo, sui quali siamo dedicati, sono pazienti, scrivete qua nei commenti se ce l'avete ancora, il preventivo che vanno fatto, pubblicatelo, ci sono pazienti che gli fanno preventivi da 40, 45 mila euro, questi sono trattamenti misti, ok? Sono quelli minori, noi non facciamo questi trattamenti tutti i giorni, noi facciamo casi che sono molto più complessi, qua si tratta di un paio di impianti, un paio di denti da devitalizzare, 13790 euro da noi 1887. 1887 contro 13790, questa è la differenza tra i nostri listini prezzi e quelli europei, ok? Poi delle volte qua c'è il paragone, quando noi diciamo totale con altri in Europa, 10133, qua in Europa in realtà è anche più alto addirittura, 13790, è successo che in passato mi chiedessero, guarda che questa cifra è sbagliata, non è così, serve a spaventare, ragazzi, è questo, fatevi calcoli, andate sul sito, scaricatevi, sul nomenclatore, tarifario, andi, quelli che sono i prezzi delle prestazioni medie e rilevate, ci può essere chi lo fa un po' di meno, ci può essere chi lo fa un po' di più, ma quelle sono delle formule che ho tirato da là. Questo è un altro preventivo, andiamo avanti, altro preventivo, questa è una catena molto famosa, totale 6.260, 6.260 da noi 2.069, vedete che non scendiamo mai, cioè non saliamo mai oltre il 60-70% di differenza come coste in Moldavia, 4.591 in Moldavia diventa 1.436, stesse cose, andiamo avanti, un altro preventivo, questo anzi è quello di prima, mi sa che li ho finiti, ok? Questo era per darvi una risposta a quando ci chiedete ma quanto si spende in Moldavia, quanto si spende, io quello che vi posso dire in maniera onesta, in Moldavia si spende quello che bisogna spendere, prima di tutto bisogna fare la diagnosi. Molti di questi preventivi che noi riceviamo sono anche con la panoramica, un fenomeno che si verifica 9 casi su 10, noi guardiamo la panoramica, mancano la metà delle cose. Oppure le cose che vengono proposte sono trattamenti obsoleti di vent'anni fa, protesi immobili, semi immobili, solo quattro impianti quando se ne possono mettere otto, ricostruzioni che non vengono prese in considerazione, vengono fatti trattamenti semplificati senza prendere in considerazione grandi rialzi di seno, là dove si possono fare chiaramente, oppure impianti zigomatici, là dove si possono fare, pensa che in alcuni paesi neanche vengono proposti, perché costa troppo, costa troppo. Il prezzo, avere i prezzi alti produce una cosa criminale, ovvero la proposta di trattamenti che sono obsoleti, datati, sottovalutano il problema della malattia, non glielo propongo neanche perché se no non lo accetta, se no non diventa cliente, se no non acquista, allora neanche glielo propongo, ma tu non devi proporre quello per i soldi che c'ha in tasca un malato, ok? Tu devi proporre quella che è la miglior soluzione per il malato. Poi se la può permettere o no, quello è un altro discorso, quello è il problema dello Stato che tassa, ipertassa i professionisti. I professionisti devono essere pagati dallo Stato, se noi eliminiamo i listini prezzi, se i professionisti, i dentisti, gli odontotecnici venissero pagati dallo Stato per fare il migliore del lavoro, ok? Con la migliore diagnosi, con i migliori materiali e non se li deve pagare il paziente, allora il malato riceve il miglior trattamento perché non c'è il conflitto di interessi, ok? Questi sono preventivi che hanno dentro un conflitto di interessi enorme come una casa e anche se tu lo prendi scontato, col doppio sconto, come se fossero zucchine, ok? Non è detto che ti stanno vendendo il trattamento migliore, perché hanno paura di perderti come cliente. Un saluto da Dottor Palmas, non venite nel nostro policlinico, non venite in Moldavia perché siamo dei terroristi, vi beccate le malattie, fate attenzione, abbiamo le mascherine, siamo dei terroristi, non venite in Moldavia.